se vuoi acquistare crediti passa da fifa easy.com con il coupon malati 15 otterrai lo sconto dell'8 per cento salve ragazzi sono fra oggi andiamo ad analizzare la carta in forma dell'attuale capocannoniere della premier league ovvero lukaku come vedete l'ho utilizzato in questo classico 4 4 2 ma ho fatto anche qualche partita con il tridente con lui ovviamente punta centrale ma passiamo alle clip allora guardando la carta sembra di trovarsi davanti a un giocatore fenomenale infatti i valori di velocità tiro e fisico sono tutti sopra all'80 il problema che dopo giocandoci secondo la mia modesta opinione mi sono accorto che lukaku non è né carne né pesce adesso vi spiego non è né un giocatore di velocità come ad esempio può essere starridge né un attaccante che fa salire la squadra come per esempio può essere bentiche analizziamo ora i singoli valori partendo dalla velocità il 79 di accelerazione secondo me è davvero troppo poco non consente quasi mai a lukaku di raggiungere la sua velocità massima per il tiro invece sono rimasto abbastanza soddisfatto infatti l'86 di finalizzazione unito all'89 di potenza tiro gli consente di essere pericoloso dentro l'area parlando poi del fisico allora l'84 di generale è secondo me dato solamente dal 92 di forza che è un valore credibile ma i restanti valori non sono un granché resistenza solo 77 a fine partita non ci arriva non scatta più il colpo di testa poi mi ha deluso particolarmente come avete visto ha sbagliato un sacco di volte sono riuscito solo a fare un gol come vedete in quest'ultima clip bene ragazzi siamo giunti alla fine di questa recensione andiamo a vedere pro e contro nei pro come vi ho detto ho messo la forza infatti lukaku riesce a spostare abbastanza bene i difensori avversari e poi anche la finalizzazione che come ho detto davanti alla porta lo rende abbastanza temibile nei contro invece vediamo il colpo di testa come vi ho appena detto ragazzi mi aspettavo molto di più da un 84 di fisico e colpo di testa 82 invece lukaku si faceva sempre anticipare dal difensore forse sarà dato dal valore di salto che è davvero poco solo 72 però con un 90 di altezza pensavo di riuscire comunque a sovrastare i difensori poi un altro contro che ho messo di cui non vi ho parlato prima è il dribbling cioè proprio non riesce a dribblare gli avversari vedo nei valori solo un 65 di agilità e devo dire si sente davvero tutto avete presente quando spostate leggermente la levetta e riuscite a evitare l'avversario ecco lukaku proprio non ci riesce anche il controllo palla e il dribbling effettivo sono bassi solo 78 rendono lukaku un giocatore che quando ha la palla tra i piedi è molto difficile da utilizzare se poi uniamo tutto questo ad un prezzo elevato io in questo momento l'ho comprato a 45 mila crediti non è un giocatore da acquistare secondo me cioè se siete contrari a quello che appena detto e voi piace lukaku comunque sia vi consiglio di acquistare la versione non in forma il voto finale è 5 perché tutto sommato ci sono attaccanti anche peggiori ma di sicuro ci sono molti e molti attaccanti migliori di lui bene la recensione è finita vi invito a lasciare un mi piace se avete trovato utili i miei consigli e ad iscrivervi al canale di noi malati di foot che bello i miei consigli Grazie.